bella ragazzi sono insane gamer ed oggi sono tornato sulle skyblock di fear games allora dove eravamo rimasti che dovevo fare il mob grinder in che modo allora innanzitutto attivando la fly mi chiedo di fan bannare ma mica sono un admin io lo sapete mi servirebbero in teoria 18 stack però ne ho soltanto pochi quindi il resto lo farò off camera e ve lo farò vedere dopo allora iniziamo andare a quel paese allora vediamo come come le torce però mi mancano aiuto dove sono qua ne ho sette mi servono ste sette torce perché altrimenti spawna il peggio schifo allora uno qui una qua e buona per il momento perché allora bisogna fare tac 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 2 3 4 allora bisogna farlo lungo 4 in verità 1 2 3 4 e poi chiudere il quarto blocco tipo così no sbagliato allora allora vai qua fai così e si fa prima qui così in questa maniera qui allora e qui si può rompere tutto il resto in verità quindi ti slash fly che ho la fly quindi la posso attivare allora rompiamo 1 2 3 4 aiuto non perdere blocchi 5 perdine almeno possibile ave maria allora ok mettila allora la torcia dove diamine sono le torce piazzale qui no 1 2 2 no sbagliato perché allora lungo 4 deve essere dal punto quindi 1 2 3 4 ci siamo quindi qua rompi tutto cos'è quel bug ok sarà veramente bugato male così 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 perfetto allora cosa bisognava fare poi in questi quattro bisognava fare qui allora 1 2 no 2 no 2 1 e 2 torce preferibilmente ai lati se no iniziano a spawnare i peggio schifi perfetto allora si iniziano a spawnare i peggio schifi perfetto allora si inizia a ragionare qua in che modo non lo so il problema è che mi manca l'acqua e questo sarà un vero grande problema dovrei vedere se alle aste la vendono altrimenti ve la faccio vedere come una volta che l'avrò finita allora se che ho vuoto non me ne faccio un bel niente raga qualcuno vende lo schifo vende dell'acqua per piacere e la madonna quante fornaci ci sono efficienza 5 tu sei matto io la voglio la voglio subito subitissimo dammi qua sta fornace schifus perché la metto qui dentro e poi la unisco con le altre adesso andiamo avanti raccogliamo questo pezzo di ferro qui andiamo avanti a fare schifo deve essere alto 24 blocchi quindi aole allora 1 2 qui è il secondo livello terzo quarto quinto vi taglio e vi faccio la parte ci vediamo quando la parte qui sarà completata allora siamo già al sesto livello tipo 1 2 3 allora fermi questa parte qua da tagliare siamo al 1 2 3 4 5 6 siamo già al sesto siamo già al settimo tanto allora finchè al settimo ottavo nono decimo undicesimo dodicesimo tredicesimo tredicesimo quattordici ho sbagliato no quattordici quindici sedici tredicesimo 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 e 24 perfetto allora i 24 blocchi di caduta sono stati fatti qui bisogna allungare le pareti di 8 per ogni lato quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 devono essere 8 il totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 comunque c'è un motivo del perché ho fatto il ponti in slab perché così non possono spawnare i mob 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e si riempie l'opposto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 nooo ho finito il limite dell'isola dove è quello da 5 arca vacca ho finito è finita l'isola mi dispiace perché è finita l'isola perché è finita l'isola perché è finita l'isola quindi finirebbe perché qui è giusto allora vedi 8 di là perché gli 8 di qua non me li fa fa cioè perché qui ah slash upgrade allora vediamo ah acquistando un pochetto costo 300.000 ma tu sei matto ce l'ho il vip qua allora ok vabbè vabbè questa parte qui è da tagliare dai perfetto allora bisogna fare dei muri alti 2 ai lati in maniera tale che i mob non si muovano ai lati di questo coso qui spogliato vabbè ho perso un pezzo di cobblestone amen perfetto di qui il resto quindi no nel senso si quindi così ma lo devi togliere parti da questo direttamente no così poi perdi il ritmo ho 64 blocchi con cui posso ultimare il primo pezzo del cobblestone generator buon anno del mob grinder allora qui ho sbagliato io quindi togliamo questo blocco oh non laggare in questa maniera che mi spavento io quindi 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 poi si va avanti questa parte qui tanta tutta da tagliare oggi sono tornato sulle skyblock allora che dovevamo fare innanzitutto devo farvi vedere questi stivaletti che ho comprato passi pesanti protezione 4 protezione dal fuoco 8 indistruttibilità 6 contra alteraggio morbido 4 indistruttibilità poi ho la spettro chiave la chiave gratis che adesso vado ad aprirvi workshop attiviamo la fly che fa più figo ottimo ok andiamo alle ceste che sono qui perfetto allora ecco qui kit halloween chi dovrebbe essere questo spettro chiave esatto esatto 32 diamanti oh mio dio quanta roba apri la seconda una corazzo di ferro da vendere allora andiamo con la chiave gratis poi apri le chiavi gratuite apri perfetto e apri la seconda non è un pvp questo pezzo andiamo sull'isola perché deve sempre piovere gesù gesù cucù ciao è vero che ho ancora la schiave di halloween allora uno due tre quattro cinque sei zana del vampiro va nell'endracest è buona ci vediamo dopo quando avrò farmato la cobblestone per finire col benedetto mob grinder bene a dopo allora chi è che vende l'acqua oh un raga no oh stai mi direi prendiamo un arco no volevo quello con infinity esatto quello con infinity che mi tenevo una freccia nell'inventario proprio una e le andavo a randellare le mazzate signore ma perché non muori boia buia ho ricevuto non ho letto l'ironingot attenzione Enchantiamo i vari archi che non ho voglia di stare A proposito, enchantiamo gli archi Vediamo qual è il più forte che mi esce Io farei questo potenza 4 con infinity Esatto E lo rinomino come era nominato prima Perforatore Alato Vai Mamma mia E quest'altro con potenza 3 Si può rimettere Via C'è due secchi, qui c'è un piccone, c'è l'altro piccone E' bugato come un'altra cosa Keltus Eccolo Wolf, no, è venita al forest per spawnare che In che modo scusami Wolf C'è online C'è online You serious mo? Ma perché mi... Cioè nel senso, lo devi riniziare da capo Devi riniziare da capo Allora qui Bisognava costruire Inutile uom Allora Allora Mettiamolo qui 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 Non spawn Ah Ma è ronco Allora Bisogna chiudere tutto Tipo Così, no? Sì, così, così Allora Andiamo in Shift Tac, 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 tac Così, così, così E così Così, così E così Così, così Così, così Così No Il 3 lo so che posso rimedicare il bonus Non domandito Meno più Che ho capito Lobby de che raghi E uno stack è stato fatto fuori Mamma mia Attenzione Si fa Il muro alto 2 Madonna mi sono spaventato Dimmi 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 Non penso di averlo Il libro con protection Però Purtroppo No Ho solo Un Efficiency 3 Lo E' buono E' buono E' buono E' buono Oh Manca un blocco Eh sì Che ne manca uno Bella Così Sei tipo Uber Bugato Forma Alarma Allora Allora Ora Devo Andare Finisco Il tetto Finisco Il tetto Allora Dammi qua Dammi qua Allora Servono le trapdoor Come si fanno le trapdoor Non ne ho la più pallida idea Grandissimo Mi ne servono 32 Mamma mia When hai gli appunti lì sotto E devi Devi leggerteli Perché sennò Non ti ricordi Il Il Metodo Quindi Come si craftano le trapdoor Così No Così Così Perfetto Trovato Il Vero Solo Quattro No No Allora Sei Otto Mi manca un pezzo di legno Clamoroso Ma si fanno un po' Mamma mia Divido la metà Poi ancora la metà E questo Poi ancora la metà E questo a metà E questo a metà Ok 16 20 E ne mancano 12 40 Vediamo come escono Allora 40 20 10 10 5 5 Mi manca Esatto Guarda Proprio 32 Il numero Perfetto Vediamo se Ho sbagliato Che me ne faccio Del cambio Della schiena Allora A parte il fatto Che mi servono Anche Altri Slab Perché li ho finiti E diciamo Che non è bello Il fatto Di aver finito Slab Perché vuol dire Che ne stai usando Troppi E anche Due lì Due qua Bene ragazzi Allora Vi faccio vedere Che cavolo Avevo fatto Ovvero Tutte le trapdoor Qui Invece Per le slab C'è un Tricchetto Che Neanche io Conoscevo Bisogna mettere Un blocco Dietro E metterlo Nella metà Inferiore In maniera Tale Che si crea Una Sottospecie Di tetto Perché dico Sottospecie Perché Al di là Del fatto Che Spiazi Il blocco Mentre ci sei sopra Si bugga E tutto il resto È fatto Così Perché È una specie Di glitch Penso I mob Riescono A spawnare Perché ci sono Due blocchi Nonostante Tu stia usando Uno slab Due blocchi Di altezza Vi taglio Tutta Sta parte Qui In cui Monto Il tetto Perché Altrimenti Domani mattina Siamo ancora E ci vediamo Dopo No Lo sapevo io Sarebbe successo Sto rovo Ah i problemi Ancora Prendi per colo Allora Vedelo Vi consiglio di mettere Gli slab Anche ai lati Del mob grinder Giustamente Perché se no I mob Spawnano Sopra L'unico blocco Fisico Sul quale È possibile Spawnare Ok Allora Vedete C'è una specie Di bug Che puoi saltare Addirittura Qui Allora Perfetto Allora Quel pezzo Lì È fatto Allora 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 No E vabbè Qui ci andrebbe la canzone di Fast and Furious It's been a long day Meno male che le trapdoor bloccano Madonna addirittura in due sono arrivati gli anti-cheater Mica sto volando perchè uso i cheat raga Se sono sky supremo un motivo c'è Voglio dire Anche voi lo sapete che pagando Potete avere poteri supremi Basta Poi Meno male che No Così esatto Bravo bravo Ottimo Allora Ah ecco le qua le altre Mi sembrava di averne fatte di più D'altronde sapevo che Ne servivano tante Eccolo qui Devo fare piano quando le piazzo le slab Perchè sennò piazzi doppi blocchi E non ti Ecco ancora Allora 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 questo allora perfetto allora togli anche questo ora e poi quell'altro e non hai più torcio bene ragazzi allora il mob grinder è concluso in teoria adesso ve lo faccio un attimo vedere c'è questa cosa immensa cadiamo vediamo se qui ho messo delle trapdoor in maniera tale che esatto è caduto un creeper va bene bene ragazzi per questo video era tutto da insane gamer bella al prossimo video ciao